E' vera compagna e amica, il vostro passo non è dolore, ma portate la gioia del vostro cuore. Dato ovunque voi siate, che felicità portate, il pellegrino lascia un segno, umiltà e amore è il vostro peggio. Una signora vi aspetta, donna lucata, a braccia aperta e la tergine immacolata. O madonna delle belissie, tergine immacolata, cari Lucero si la stiglia e ci illuminata. O Maria, o Maria quando hai danni la tua potenza, cari Sarecini scacciassi di la sua pre-pudenza. La città di Scegli non può dimenticare le porte in vero, che a campi e le urbane c'è la nucleo in gelo. O madonna, cari tutto il mondo si la protettisce, protegge le cristiane delle grandi sacrificie. Che forse battaglia c'è fu, lo popolo dei Sarecini, che a scicli volino conquistare i paesi vicini. Non dobbiamo fermare la manzana dei Sarecini e per i cristiani si preparano la Santa fine. Ecco, ma quando tutto paria verso, da un momento lo nostro Dio capiva la porta dell'oreverso. Nel baglio visto non dallo cielo lo popolo cristiano, la signora spuntavo con cavallo e la spada in mano. La signora era la tergine imbacolata, cari Sarecini scacciavo come una spada in mano benissimo. Che vittoria pluriosa ci fu il mio popolo cristiano, che ora vellegrinaggio vedono Maria, popoli vicini e popoli lontani. Grazie.